Ho firmato questo rinnovo e farò parte ancora di questa grandissima famiglia. Sono orgoglioso di rappresentare di nuovo per un altro anno questi colori. Spero di raggiungere insieme a voi traguardi importanti, di toglierci delle soddisfazioni insieme. Quindi ripartiamo tutti insieme. Forza Cavese! Dopo queste dichiarazioni rilasciate da Andrea Russotto attraverso i canali ufficiali della Cavese, la notizia del prolungamento del contratto tra l'attaccante romano e la società Aquilotta, che ora ha validità fino al 30 giugno 2022, ha entusiasmato i tifosi bianco-blu. Anche il fatto che Russotto, in virtù della sua esperienza di 16 anni di calcio, possa essere stato indicato dalla società come uno dei tutor per l'Academy, che sia dunque uno di quei giocatori, insieme a Claudio De Rosa, che potrebbero dare ai giovani indicazioni utili per la propria formazione sportiva, fa capire che questa esperienza il giocatore farà bene a trasmetterla a chi si sta affacciando al calcio, il che comporta qualche responsabilità in più. L'agente di Cava vuol vedere anche il miglior Russotto sotto il profilo della continuità e della tranquillità, tutti aspetti che incidono inevitabilmente in maniera positiva per un calciatore. Ieri si era parlato degli attaccanti della Cavese. Ebbene, tra i papabili, oltre a Russotto, Sainz Massa, Cesaretti, Cerminale e allo stesso De Rosa, Modica sicuramente vorrà rendersi conto anche delle qualità di Andrea De Paoli, ingaggiato dal club poche settimane fa da Rieti retrocesso in D, e di Simone Addessi, che ha avuto pochissime chance di mettersi in mostra, ma per le caratteristiche tecniche che ha riuscirebbe a rendersi utile per il nuovo mister. Salvatore Sandomenico, altro attaccante, è un altro giocatore che Modica già conosce per averlo allenato, nelle file dell'Aquila, ed è sotto contratto con la Cavese fino all'anno prossimo. Altri giocatori che la Cavese sta attenzionando per il proprio mercato in entrata sono il centrocampista Giorgio Tumbarello, che era già stato calciatore della Cavese due anni fa, il tersino destro Matteo Saccani, ex Castelvetro, che ha 19 anni ed è di proprietà del Sassuolo, e ultimamente si registra anche l'interesse per l'attaccante Davide Cais, ex Carrarese e Arzignano, che però piace anche ad altre due società del Nord. Il nuovo regolamento, che si uniforma per tutte le categorie professionistiche, prevede che i calciatori sotto contratto con i club, in particolare quelli in scadenza, in questo periodo possono firmare contratti preliminari con altre società, ma tali contratti possono essere depositati dal primo settembre in poi. Quindi, leggendo letteralmente tale norma, sino a quella data i giocatori in questione farebbero parte comunque della società cedente, non potrebbero dunque allenarsi con la squadra della società acquirente. Tuttavia l'Asso Calciatori lavorerà affinché quei calciatori in particolare, soprattutto quelli in scadenza, possano ottenere una deroga. L'epidemia da Covid-19 ha costretto la Federcalcio a ridurre drasticamente il periodo di ferie estive per i giocatori di Serie A e B, e anche per quelli che sono stati impegnati fino ad oggi nei play-off di Serie C. e la circostanza è stata talmente straordinaria che necessita anche di un'elasticità interpretativa. Grazie per la visione! Grazie.